Ciao a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz. Faccio questo video perché mi avete iscritto in tantissimi cercando di avere delle informazioni circa il certificato di cui abbiamo parlato tempo fa, ovvero il certificato che si occupa di operare sulle aziende del turismo. Visto che è la cosa che interessa tantissime persone, io faccio questo video per darvi tutte le informazioni che possono esservi utili. Il certificato è questo che vedete che si chiama Express Certificate, Amadeus, IT Holding eccetera eccetera e l'ISIN è quello che vedete in questa pagina, quindi questo che è sottolineato in arancione. Quali sono i sottostanti? I sottostanti di questo certificato sono 4, Amadeus, Expedia, Priceline e TripAdvisor. Priceline non è nient'altro che Booking.com, quindi uno dei siti più utilizzati per acquistare stanze o comunque alberghi quando si decide di andare in vacanza e Amadeus invece che magari non molti la conoscono è un'azienda che si occupa di fornire il software per le prenotazioni dei biglietti alle compagnie aeree e non soltanto alle campagne aeree, quindi insomma una azienda leader per quanto riguarda i servizi legati alle vacanze. Quindi l'idea del certificato qual è? L'idea è che queste aziende possano performare in maniera decisamente migliore rispetto a quello che è il mercato. Come si è mosso questo certificato? In realtà dopo la quotazione è iniziato ad avere dei prezzi piuttosto alti ed è arrivato fino ai livelli diciamo di 1010-1012. Poi ieri come abbiamo potuto notare c'è stato il crollo o meglio il ritracciamento sul Nasdaq e gran parte di questi titoli hanno avuto una performance negativa. Questo ha portato il certificato nuovamente sotto la pari. In questo momento come vedete siamo a 997 su un valore nominale di 1000€ quindi in questo momento si compra sotto la pari. Ora perché questo certificato è interessante? Perché paga delle cedole mensili, le vediamo qui. Qui abbiamo la data di osservazione quindi quando vengono osservati i vari titoli e la data di pagamento. Ogni cedola vale l'1%, quindi essendo un certificato a scadenza un anno ha un rendimento se tutto va bene del 12%, se tutto va bene perché adesso vediamo le varie casistiche, quindi già tra due giorni verrà osservata la prima rilevazione e se tutto sarà, i prezzi dei sottostanti saranno sopra il livello di barriera, allora a quel punto si riceverà la prima cedola del 1%. Tra l'altro la cosa interessante è se avete in portafoglio delle minusvalenze, questa cedola appunto viene considerata come reddito diverso e quindi va a compensare le minusvalenze pregresse. Vediamo questi titoli come stanno andando, questo è TripAdvisor, il primo titolo, vi ho messo il valore di fixing iniziale in verde, quindi dove ha iniziato a quotare il certificato e in rosso il valore di barriera. Se tutti e quattro questi titoli ad ogni data di rilevazione sono sopra questa linea rossa, quindi il livello di barriera che è posto al 33% di distanza rispetto alla linea verde, quindi a livello di fixing iniziale viene chiamato lo strike price, allora viene pagata la cedola o il premio come sarebbe più corretto chiamarlo. Qui che cosa abbiamo? Questo è Expedia, questo è il valore del fixing iniziale, siamo più o meno sullo stesso livello e qui abbiamo il livello di barriera. A volte le vedete più vicine o più lontane, ma in realtà è sempre il 33% dal livello iniziale, semplicemente qui c'è stato un movimento più importante al rialzo di Expedia nell'ultimo anno e mezzo. Quindi diciamo questo è quello che vediamo. Poi questo è Amadeus, dove addirittura non vediamo il livello di barriera, dovrebbe essere, probabilmente qui non l'ho inserito, comunque è sempre dal 33%, ma Amadeus vediamo che è ben distante già dai livelli di fixing iniziale, quindi è già andato a rialzo in maniera piuttosto forte e da ultimo vediamo Priceline, ovvero Booking, che ha un fixing iniziale qui, quindi su questo livello verde e si trova anch'esso sopra il livello di strike price. Quindi tutti e quattro i titoli presumibilmente tra due giorni saranno sopra questa riga rossa, ovvero sopra il livello di barriera. Questo significa che con ragionevole certezza verrà incassata la prima cedola di 10, perché il certificato vale 1000, quindi l'1% è 10 Euro. Supponiamo di comprare 10 certificati, avremo un incasso da cedola di 100 Euro al mese, perché come vedete la cedola è mensile, viene calcolata ogni singolo mese, quindi diciamo c'è questa data di osservazione ogni mese, quindi questo viene pagato. Quali sono i casi particolari? I casi particolari sono, caso numero 1, uno di questi quattro titoli va sotto il livello di barriera, allora non abbiamo diritto alla cedola nel mese successivo. Se poi dovesse tornare sopra il livello di barriera, quindi facciamo un'ipotesi, l'ipotesi è che il prezzo scenda, torni, vada sotto e poi torni sopra, allora a quel punto grazie all'effetto memoria otterremo tutte le cedole che non abbiamo incassato nei mesi in cui uno dei titoli facenti parte del paniere si trovava sotto il livello di barriera. Quindi questa è una casistica che non ci dà diritto alla cedola. L'altra casistica è il rimborso anticipato, ovvero tutti e quattro i titoli, tutti, quindi tutti e quattro i titoli si trovano sopra la linea verde, quindi in questo caso abbiamo TripAdvisors che si trova sotto, ma in generale qualora se tutti e quattro i titoli e gli altri si trovassero sopra il livello di barriera ci sarebbe un rimborso anticipato. Cosa vuol dire? Vuol dire che si incassa 1000 più l'ultima cedola per singolo certificato. Bene, quindi abbiamo visto la casistica della non cedola, quindi quando i prezzi di almeno uno dei titoli vanno sotto il livello di barriera non si incassa la cedola, se tutti vanno sopra il livello di fixing iniziale, allora il certificato viene rimborsato. Questo non è un male, nel senso che se il certificato viene rimborsato si farà qualcos'altro, ma si riprendono i 1000 Euro, considerando che a questi livelli si acquista sotto i 1000 Euro, oltre al rendimento della cedola dell'1% al mese, si ottiene questo differenziale che è circa 1,02%, in questo momento nel senso che 998 è quasi 1000, però diciamo è un qualcosa in più in ogni caso. Poi c'è invece il caso, quindi uno vedendolo così dice, ah che bello questo certificato è fantastico, faccio l'1% al mese e non mi prendo rischi. No, non è esattamente così, nel senso che ovviamente come tutti gli strumenti che danno un rendimento interessante, quindi un rendimento come in questo caso di oltre il 12% l'anno, perché in realtà qui mancano quasi 11 mesi e abbiamo un rendimento atteso, diciamo superiore al 12% l'anno, ovviamente hanno dei rischi, perché questi, e adesso ve li spiego, però perché questi prodotti mi piacciono particolarmente? Perché come sapete io sono fondamentalmente, sono convinto che i mercati americani in generale comunque siano su dei livelli di massimo, quindi mi accontento anche quello ci fosse un movimento molto molto forte dei mercati al rialzo, di prendere questo 12% di rendimento a fronte di una protezione del rischio in caso di un mercato che vada verso diciamo una correzione. Quindi questi strumenti secondo me sono utili perché ci danno la possibilità di ottenere dei rendimenti soddisfacenti, perché secondo me un rendimento del 12% è un rendimento soddisfacente, a fronte della protezione, ovviamente investendo sui sottostanti e qualora i sottostanti facessero una performance migliore avremmo potuto guadagnare di più, però questi strumenti mi danno la possibilità di difendermi nel caso in cui il mercato ritraccia ad esempio in una media su questi 4 titoli del 20%, perché? Perché se a scadenza, e questo è il punto più importante dove dobbiamo sicuramente valutare bene quelli che sono i rischi, se a scadenza anche uno solo di questi titoli fosse sotto il livello rosso, quindi il livello di barriera, avremmo come rimborso l'equivalente appunto della performance peggiore del sottostante che si trova sotto il livello di barriera. Per dirla in maniera molto semplice, se gli altri titoli andassero molto bene e TripAdvisor facesse meno 40%, si troverebbe sotto il livello di barriera e di conseguenza il certificato da 1000 verrebbe rimborsato a 600, ovviamente avremmo incassato le cedole nel periodo di riferimento. Questo che cosa significa? Significa che è vero che è difficile che questo scenario possa avvenire, ma assolutamente può accadere. Nel frattempo incassiamo quelli che sono i premi e il rischio che andiamo a sopportare è il fatto che appunto possano scendere sotto questo livello e quindi avere una perdita in capitale anche considerevole nell'ordine del 40%, immagino insomma se dovesse scendere del 40%. La cosa bella però qual è? Che se dovessero scendere anche soltanto del 30%, o meglio il peggiore di questi 4 titoli all'interno di questo paniere, dovesse fare anche soltanto meno 30%, quindi fermarsi qua alla data di scadenza, il rimborso sarebbe comunque 1000. Quindi questo strumento ci consente di guadagnare una performance che può essere del 12% all'anno o dell'1% mensile e se non si verifica questo scenario negativo, quindi il titolo peggiore rimane sopra il livello di barriere avremo comunque il rimborso a 1000€. Tradotto investendo 10.000€ su questo prodotto e quindi acquistando 10 certificati si potrebbe avere un rendimento di 100€ al mese. Come si fa a comprarlo? Molto semplice, si clicca qua sulla sezione ISIN, si clicca su coppia, si va per esempio all'interno di un conto online qualunque, per esempio questo di Fineco, si mette all'interno della sezione cerca e compare lo strumento. A questo punto si apre il book di negoziazione, si inserisce la quantità che si vuole inserire, per esempio 10 pezzi e si può decidere di comprare a mercato piuttosto che a un prezzo diverso. Supponiamo di volerlo comprare a 990€, noi andiamo a inserire il nostro pin e andiamo ad acquistare questo strumento. Vedete che compare il nostro ordine di 10 pezzi a 990€. Bene, io spero di avervi dato tutte le informazioni relative a questo strumento, spero di avervi aperto la mente verso nuove modalità di investimento che richiedono comunque la dovuta preparazione, l'esperienza e comunque dovete considerare quelli che sono i rischi legati a questo tipo di operatività, però diciamo che a mio avviso si tratta di un prodotto interessante, considerando appunto quelli che è la probabilità di finire con questi titoli sotto il livello di barriera e quello che è il rendimento atteso. Questi strumenti vengono costruiti con l'ausilio di opzioni e di fatto insomma sono strumenti a mio avviso piuttosto interessanti. Con questo io non mi voglio dilungare troppo, da Enrico Lanati, investire.biz, per oggi è tutto, io vi esorto a venire sul nostro sito, a commentare gli articoli degli altri, a commentare magari anche questo articolo con le vostre domande, le vostre risposte. Buona giornata e buon trading a tutti quanti. Grazie.